Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora se mi vedete allungata a letto Perché praticamente stamattina ho avuto un callo di pressione Ma non è nulla di che Quindi adesso sono a letto E ho detto perché non fare un nuovo video Anche se non è proprio il massimo Farlo in questa situazione Però vabbè ci provo Allora io vedo spesso Dei video in cui Certe mamme anche giovani Raccontano della loro Gravidanza, del parto E cose così Io chiaramente non posso fare un video del genere Perché non ci sono mai passata Io non ho figli Per chi mi segue da tanto tempo Il canale questo già lo sa Però magari per i nuovi iscritti non lo sanno Quindi lo dico io non ho figli e non sono mai stata incinta Però ho detto Siccome tra poco è il mio compleanno Allora voi dovete sapere Che Tutti gli anni Quando arriva questo periodo qua Il mio compleanno è l'11 aprile per la cronaca I miei genitori Ricordano il giorno in cui sono nata Quindi ormai la storia Io la conosco a memoria Quindi anche se io Ormai so È come se Fossi stata io a partorire Quindi ho deciso di raccontarvi Il giorno in cui sono nata Allora Premetto che sono nata a termine A 40 settimane Precise proprio Si sa no? Che più si avvicina la data del parto E più La futura mamma Si deve far controllare Per vedere se è tutto a posto Oppure no Per programmare il ricovero Eccetera eccetera La mia mamma Aveva un ginecolo Privato Che l'ha seguita Per tutti i nove mesi Della gravidanza Ci è andata a fare L'ultima visita Ha visto E ha detto Guardi signora Lei è dilatata Di due centimetri Si dovrebbe andare A ricoverare Per lo meno Vada Dille che L'ho mandata io Magari l'accettano E va bene Perché tanto comunque Lei era di 40 settimane Quindi ormai Cioè Era questione Di pochi giorni Cioè Voglio dire E quindi Vabbè Siccome Praticamente Mio padre lavorava Lei che cosa ha fatto È tornata A casa Ha telefonato Mio padre Ha spiegato la situazione Mio padre Ha lasciato il lavoro Ed è venuto appunto A casa Poi chiaramente Lei aveva già La valigia pronta Con tutte le cose Che servivano Sia per lei Che per me Mio genitori Si sono messi In viaggio Verso l'ospedale C'è da dire Che però L'ospedale Un tempo Noi ce l'avevamo Sotto casa Però adesso Sotto casa C'è soltanto Una clinica Clinica Dove fanno Le analisi Altre cose Però non Non è più Un ospedale Dove ricoverano La gente L'hanno trasferito Quindi Ci si poteva Benissimo Andare a piedi Era sufficiente Fare soltanto Una piccola discesa E si arrivava A questo ospedale Allora Chiaramente La mia mamma Andava avanti Mio padre Dietro Col borsone Perché Lei Essendo incinta Non poteva Tanto portare i pesi C'è da dire Che la mia mamma Non aveva dolori Arrivati in ospedale Quelli che stanno All'accettazione Fanno Desidera E la mia mamma Fa Eh sì Io sono venuta qua Che devo partorire E E Quelli hanno fatto Una strana faccia Perché di solito Chi deve partorire Ci va sempre dolorando Invece la mia mamma Non aveva dolori Poi chiaramente Ha detto il nome Del medico Che l'aveva mandata E tutto a posto Poi chiaramente L'hanno Hanno deciso Di ricoverarla Perché Quando sono nata Io erano altri tempi Cioè adesso Se Se non hai dolori O non hai sintomi O niente Ti rimandano a casa Invece a quei tempi Proprio Bastava una parola Che diceva Il tuo ginecologo Che eri ricoverata E quindi Vabbè L'hanno ricoverata E tutto a posto Questo era il 10 aprile Chiaramente Poi Mio padre È tornato a casa Perché non poteva Passare lì la notte La mia mamma Nel frattempo Ha detto All'infermiera Ha detto Ma Non si sa Quando nascerà E l'infermiera Ha detto Guardi Signora Se tutto va bene Nascerà Domani sera Cioè La sera Dell'11 aprile E vabbè Erano Verso L'1 Le 2 di notte Era già l'11 aprile Mattina Mattina presto Quando la mia mamma Sente Le prime contrazioni Ma Dei dolori Tipo ciclo Me l'ha spiegato lei È andata dall'infermiera Perché comunque lei Essendo la prima gravidanza Non sapeva Se quelli erano i dolori Veri e proprio Erano dolori Preparatori Quindi è andata dall'infermiera Ha detto Guardi signora Questo non è niente Torni a letto Poi magari La visitiamo Se i dolori aumentano Vediamo un po' E vabbè Lei è tornata a letto Dopo due ore Ovvero Verso le 4 di mattina Dell'11 aprile Alla mia mamma Viene da vomitare La sua compagna A distanza Che aveva Avuto altre gravidanze Altri parti E tutto Ha detto Mi sa che qua Forse ci siamo Perché lei Era più Comunque più esperta Avendo già avuto Dei figli Avendo già partorito E allora è stata lei A chiamare appunto L'infermiera E è arrivata L'infermiera Ha detto Eh ma lei Con questi doloretti Si vuole Vuole partorire Cioè praticamente Praticamente Come per dire Guardi che deve soffrire Di più Cioè questi sono dolori Così Vabbè Comunque io la visito Vediamo come va Come non va L'ha visitata Praticamente In poche parole La mia mamma Era arrivata A 8-9 cm Di dilatazione E io stavo nascendo E alla fine Non si è capito più niente Perché hanno dovuto Prendere la mia mamma Portarla subito In sala parto Poi chiamare il ginecologo Chiamare mio padre Mio padre che si è dovuto Preparare Subito Subito Perché nessuno Se l'aspettava Che io sarei arrivata Così all'improvviso Perché la mia mamma Non aveva contrazioni Quindi Si aveva quei dolori Ma tipo ciclo Proprio niente Dico ma come è possibile E alla fine Mio padre è arrivato È arrivato pure il ginecologo Alla fine Un po' di spinte Io sono uscita Quando sono uscita Questo mi è stato raccontato È stata una cosa Troppo simpatica Praticamente ero Tipo Ero verde Verde E come risposta E non dimenticatevi di iscrivervi al canale A presto